Io qui ho dieci carte, dieci carte prese, vi assicuro da un mazzo di carte normalissime, ok? Ma, ma, di queste carte posso anche mescolare, non ci deve essere nientanto su queste carte normalissime, ma capirete, capirete il perché. Ah, potrei anche mostrarvi le carte, potrei anche mostrarvi le carte, però non ha importanza e vedrete perché ha importanza, sono comunque carte normali, lasso, otto, tre, tante carte, no? Ma capirete perché? Perché sarà tutto il destino a scegliere, in maniera pulita, lanciamo i dati. 5 più 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, questa è la sesta carta, re di picca, ok? Qualsiasi carta, va bene, posso anche mescolare, non ci deve essere niente, tutto, ok? Mescolato. Il destino ha scelto, ripeto, 6. Per un momento, queste carte le mettiamo via che non ci servono, per un momento. Capirete perché. Vi ricordo, vi ricordo, che tutto quello che vedrete è reale, senza taglio, cose del genere. Sto usando solo carte che avete anche voi a casa, per un momento, ok? Ora, state attenti. Io di queste carte non guarderò assolutamente, vi assicuro che non guardo, ragazzi, vedete? Non sto guardando niente. E queste carte le mescolo con una mano, cercate di capire, questo fa capire che voi prenderete la carta che ha solo pensato, ok? Sparpagliamo tutto. Io punto, non guardo niente. Questa. Prendiamo questa. Secondo me questa è la carta che lui ha pensato. E la inseriamo dentro, così, però un po' la lasciamo in out jog, un po' fuori, così si vede. E realmente, ragazzi, guardate voi stessi, con i vostri occhi, sono nove carte pulite, esaminabili. Io ho inserito una carta metà che avete visto e insieme, esattamente, la carta solo pensata. È incredibile questo effetto per la sua pulizia. Tutto quello che avete visto è reale. Voi non saprete mai la carta che realmente pensa. Ma la cosa incredibile è che voi, senza sapere niente, prenderete la carta, la inserirete a metà nel mazzo, farà tirare di maniera pulita, che è sempre lì. Lui stesso, o lo spettatore o lo mentalista, la può estrarre e far vedere che la carta solo pensata. Tutto esaminabile. Grazie di qua, ragazzi, per l'attenzione.